ciao a tutti ragazze e ragazze bentornate sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite vi aspetto anche su instagram come al solito sotto in info box troverete tutti i link di riferimento ecco l'assistente col capello nuovo stanchissima che mi deve venerdì mi sono collata la cartella di nicola abbiamo preso il pacco dei tovaglioli quelli 150 pezzi della consiglia dammi fammi leggere abbiamo speso 24 euro e 45 centesimi ricottina di mucca ricotta di mucca e questi sono 448 grammi poi il vriustel e patatine vriustel amadori e niente tre vriustel francesco amadori francesco amadori hamburger hamburger freschi e delicati quattro hamburger che sono 408 grammi a maoletto a maoletto integrale orto roma e insalata mista e questi sono 200 grammi se non sbaglio io ho preso tre bottiglie di acqua neppi acqua neppi coca cola coca zero la bella lavanderina nuncio lombate lombate di maiale il lombrico sì vabbè lombate di maiale sono 680 grammi ho casca tutto qua fior di fetta petto di polla rosso e sono 164 grammi fior di scomodori le birbe le birbe queste cazze e bottiglie ora dove si sono messe consiglia saper scegliere latte 100% italiano latte della consiglia l'amico di manuela si chiama zimil saloon strong 9 una birra di queste che ce l'avevano in offerta krab i krab ritter sport cioccolata e la cioccolata al latte delle alpi una barretta è meglio tenerla fuori dal bordo fai fermo tu poi vabbè Nicolassi facciamo vedere il vestito da carnevale tua sì Harry Potter prendilo prendi tutta la busta oh mannaggia la 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 allora abbiamo preso il vestito gliel'ha comprato mia madre Nicolassi il vestito di Harry Potter poi vabbè poi vabbè io mi ho comprato lo stampo da un set 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 e poi vabbè io ho preso altre penne perchè Nicolassi le distrugge le perde le mozzico eh le mozzica e questi che mi servono per fargli la bacchetta magica di Harry Potter e quindi per ora è questa poi ci sarà l'aggiunta ciao cioè no ma io non stava a registrare vabbè l'aggiuntina delle cose che mi sono scordata oggi quindi una patronus il lievito che domani è sabato Diego fa la pizza e poi oggi sono andata a fare la spesa che gli ho mandato a messaggio a Diego dicendo serve l'olio per friggere vero? ma non si uscita l'unica cosa che non avevo preso e quindi vabbè due euro e venticinque al Lidl e poi domani ci sarà l'aggiuntina ciao allora aggiunta spesina perchè questi non sa perchè ne li facevo mai vedere ogni volta che andava al mercato comunque abbiamo preso il broccolo siciliano questo è romano eh? un broccolo romano e l'altro questo è romano cavolfiore che belli già puliti tre spazi due questi sono julienne con zucchine, carote e basta e basta e questo qua penso che è il verza e radicchio e radicchio no? mi sa che questa è quella verza rossa sì sì comunque spadella pure questa sì sì e poi la frutta mele e mandarini e kiwi poi ci sarà l'aggiuntina come al solito allora aggiunta aggiuntina abbiamo preso i rizze Nicolas è andato in fissa per fare la merenda mezze maniche rigate della barilla io mi sono presa le menta fredda che mi piacciono e la pancetta per fare la pasta poi aggiungiamo a fare un po' di spesa e quindi ci sarà l'aggiuntina come al solito abbiamo preso queste cose al tutto market sotto casa e abbiamo speso 5 euro e 37 centesimi ciao allora aggiunta della spesa abbiamo preso l'insalata questa casa reggillo che è un insalatino mista poi i fuselli di pollo e questi sono 678 grammi i sovraccosci di pollo che sono 400 grammi che li facciamo al forno poi il macinato di vitellone questi sono 314 grammi voglio fare le polpette con il sugo e le le panatine in aggis per Nicolas che sono 220 grammi oggi mi sono tagliato i capelli guardate che bello poi una bottiglia di passata di pomodoro questa di gambardella è caduto tutto abbiamo preso due guadernoni per Nicolas e per la scuola sapone per i piatti questo è del nonna papera una pepsi da un litro e mezzo farfalle della barilla Nicolassi si è preso le caramelline all'anguria che mi piacciono tanto e un pacco di fagioli borlotti quindi per ora era questa nostra spesuccia perché dai cinesi ho preso il sapone per i piatti e i due guaderni ho pagato circa 4 euro e qualcosa e 11 euro al tutto market per queste altre cosine ciao e ho preso la pancetta che faccio una sorta di grigia la pasta quindi la mia pancetta poi l'altro macinato che avevo preso già ieri un pacco e così faccio le polpette da mezzo stasera e ovviamente ho preso il pecorino grattugiato questi sono 102 grammi e ho speso 4 euro e 76 centesimi ciao e come nello scorso video cioè svuota la spesa l'idol risparmio casa l'idol in ghiretta commentate sul pezzo in cui c'era il cammello Nicolas e faceva così eccolo vedi cammello Nicolas poi domani andiamo a fare la spesa quindi ci sarà la giunta ciao spesa settimanale di Harry Potter dove siamo stati da Lidl e da Eurospin e quindi iniziamo subito da iniziamo subito con Eurospin Eurospina 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 l'acqua naturale l'acqua naturale Sistema casa 200 paletti per caffè paletti per caffè abbiamo speso 36 e 57 centesimi no 100 euro e 99 tavolette tavoletta tavoletta vc liquida le tavolette vc per bagno il bagno Nicolo ve li mangiati grave sale buonissimo per la lastroviglie sale per la lastroviglie che stiamo a casa pellicola la pellicola frigo e microonde 40 tabs per la lastroviglie profumo limone Dexal le tavolette sono 40 tabs della Dexal un cuscino di pollo questo è un impasto della salsiccia di suina e dobbiamo fare le fettuccine ma cambiamo la tacciata no non c'è un cale docciando zucchero di canna le bustine di zucchero di canna le bustine di zucchero di canna le indivia che questa ci piace tanto come insalata botte di vacca botte di vacca i vinetti che uso per quando cucino botte di vacca allora lo so la 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 lenda bifidus pipe lo yogurt questo della lenda è bifidus tè verde tè verde io bifidus io bifidus amo essere biologico firmato mister samba mandorle sgusciate e noci mandorle e noci sono da 80 e 60 grammi adesso va di fretta che metto a posto merenda merenda latte frutta banana fregola merenda di frutta arancia mousse al cacao due coppe queste cacao e panna mousse macao blu blu stè alla pesca tè alla pesca il collegamento mango 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 vaga vivi e dieta vivi e diet vitamine e minerali vitamine e ferme scelti? 700 anni sì non è vero devi legge solo quello che sono piatti pizza sistema a casa piatti pizza io li ho appena detto piatti per la pizza la marca e il prodotto no blend mix di formaggi formaggi grattugiati insalata su letto giuliano 250 grammi di insalatina amo essere biologico firmato tremolini muesli croccante muesli croccante firmato tremolini eh sì che sia chiaro è firmato è firmato fragole cestino di fragole sul tappeto di fragole dolciando croccante al seseranno si croccante al sesamo al seseranno ma seseranno tremolini bronzo la pasta i tortiglioni matriciana delizia del sole maionese 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 jerez brodo classico 20 dati per il brodo classico di solito che fa il caffè la caffè dolciando cioccolato al latte cioccolato al latte si abbiamo la caffè d'acqua la blusa effervescente adesso passiamo al lidl lidl si dal salumiere ventricino calabrese piccante e sono 120 grammi di salame piccante tutto chiaro salumeo salame ungherese 150 grammi di salame ungherese mareschef il pesce servito cotoletta di perluzzo espinaci panata gastronomia di mare filetto di salmone marinato filetto di salmone marinato e questi quanti sono? 250 grammi mamma snack del croccantino di mais al formaggio della luna gruviera quelli tipo fonzi vengono dalla luna gruviera lovillo mozzarella grattugiata mozzarella grattugiata per pizza crepes crepe al prosciutto e mozzarella tavola giuseppe e maria latteria burro di centrifuga 125 grammi di burro che viene dalla lavatrice a centrifuga si foglie total 0% yogurt quello greco greco campo largo riso e grano saraceno riso e grano saraceno si si saraceno stavo per di bella rom sensazioni espresso il caffè quello per la modo mio espresso tonno nix negozio preferito di mamma nix a 99 centesimi torno ocean sea quindici fish button quindici bastoncini di pesce stasera ci siamo presi non è tedesco non è svedese le pizze dell'italiano italiano pizza friarielli e sal questa se l'ha presa a diego io ho voluto i sofficini le crepe italiano pizza diabola io ho la pizza diabola da lì esce il diabolo che si chiama diabolo ma si vedeva pure che le dica la pizza sperai no piatti piani piatti dell'aromata piani e fondi 50% carosio rice was riso parboiled riso un chilo panici riso parboiled parboiled agna freeway cola zero la coca cola zero la coca cola zero caga 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 aspetta padrono so che non c'ho la bacchetta c'è la mamma c'è la borsa aspetta adesso la prendo dove sta la bacchetta? no poi due su rice una rum e lime e l'altro vodka e orange c'è la bacchetta 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 le dicchie di che ci manca? campo borlotti campo largo campo largo il mio cazzo preferito di mamma filetti di acciughe un barattolo di acciughe della nix la mia matita per le sopracciglia quella che prendo sempre la mia matita per le sopracciglia spento svilogare inizio il nostro canale è una matita per le sopracciglia per il mio cazzo è così ti dimentico ce